Cosa proviamo a fare con questo testo è provare ad avere un'idea che è l'utilizzo del prodotto di IB, alcuni prodotti che caratterizzano il vino in linea con le richieste dal mercato. Vedete che ci sono alcuni mercati che chiedono alcuni tipi di vino. Per esempio c'è il mercato negli U.S. dove normalmente avete un livello più alto di zucchero, o avete un migliore montaggio, o vogliono, per esempio, il vino di svueta con un po' più caratterizzato, con un po' più vanilla. Abbiamo la possibilità di fare questo, perché? Perché con l'utilizzo di IB4U, che sono i nostri strumenti per l'utilizzo del vino, abbiamo il risultato che viene dal trattamento che quasi tutti i clienti hanno fatto, e con il mercato specializzato dove vogliono introduire un vino. Quindi, cosa facciamo? Abbiamo prenduto tutti questi dati, sbendiamo questi dati, copiiamo questo, troviamo un vino che è simile al vino che hanno trattato, e facciamo una sorta di tour del mondo, che è il gusto dei consumatori nel mondo, a causa del vino che il vino vendono. Quindi non è un testo con il consumatore di cosa vogliono e non vogliono, è davvero il testo dei clienti che compiono. Quindi non è qualcosa che vogliono, è qualcosa che davvero usano. principalmente, la maggior parte dei trattamenti che abbiamo fatto, sono trattamenti che sono caratterizzati. Perché, sai, alcuni mercati vogliono avere un particolare dettaglio, che hanno fatto il cliente, possiamo dire, un po' aggiungimento a qualche fervo o a qualche gusto. Perché, a volte, sai, durante i vintaggi, abbiamo diverse caratteristiche del vino. Quindi, quando abbiamo diverse caratteristiche del vino, a volte il cliente non piace cambiare troppo. ciò che abbiamo cercato di fare è che, principalmente, vedremo tutti i prodotti che vorrei parlare, ci saranno alcuni prodotti che sono qualcosa di tipo di attività, e poi ci sono i prodotti principali, il tannin, la nostra linea dell'Elagitan Barrique, come si saranno caratterizzati. E, abbiamo anche cercato di capire qual è il tipo, il stile dell'Elagitan Barrique che vogliono per un mercato specifico. Questo è il Sangiovese. Il Sangiovese, come sapete, è molto... è una varietà che cresce principalmente nel centro dell'Italia, across Toscana e Emilia-Romagna. La varietà principalmente è una varietà molto neutra. C'è alcuni dolci, un po' di tempo, ma la varietà principalmente è una varietà molto neutra. Quindi, ciò che è molto importante nel Sangiovese è che cerchiamo di caratterizzare il Sangiovese e quindi darà un marco molto bene il prodotto. Quindi, questo è il testo. Come vedete, è un vino molto clean, non è speciale, un po' di acetaldehyde. E, vorrei dire, per essere un Sangiovese ha anche un po' di più profondo. Ok? Quindi, se andiamo su quello che trattiamo, si chiedono la buona roma. Perché? Perché è davvero il tannino che ti dà il sapore di... c'è un po' di acetaldehyde come un ucchio che viene dalla Francia. Quindi, se lo testate, si riempi davvero come il stile francese della barrique. Considerando che questo tipo di trattamento non può essere un trattamento molto caro, perché consideriamo il vino a 3 euro, 2,5 euro. Quindi, è un trattamento medio. Cosa abbiamo fatto? Perché questo vino è molto clean, è già molto... ben fatto. Abbiamo aggiunto un po' di superman, che è cercato di riempire un po' di palazzo dove il buon roma, che è molto ricco in tannino, può imparare un po' di più. Se senti il vino, considerate che è un vino che è quasi finito, lo prende dal tank, lo trattate e lo mette in bottola. Quindi, per sicuro, abbiamo solo un po' di CO2, 10 milligrammi di CO2, milligrame per litro, ma se senti la differenza, che è un buon aroma, ma il testo è un po' lato. Lo piace, ma è un po' lato. Il trattato, senti l'occhio, senti la bianca, ma non senti il tannico che hai nel vino, nel medio. Quindi, se non ci sono altre questioni, siamo a un mercato molto importante, l'italiano. il mercato. Il consumatore del mercato italiano è un consumatore che conosce molte varietà diversi. Considerate che l'Italia è uno dei paesi del mondo dove c'è il più alto numero di varietà. Quindi, il consumatore ha molte varietà diversi. quindi, ciò che proviamo a fare è di capire quello che i nostri clienti hanno fatto per creare un po' di complessità usando due tannini. Quindi, se senti, se senti, proviamo il testo e poi andiamo un po' di lavoro. Il primo è il Sile Sangiovese che usiamo varietà italiana. Se senti, hai due sensazioni di questo vino. e poi, come inizia, hai qualche molto interessante cerro, un cerro legato, magari un cerro overripe. E poi, se andiamo molto profondo, andiamo a qualche frutto come bluberry, come blackberry. Questo era il tema di questo vino. Quindi, dare un po' di complessità a un Sangiovese che, a volte, è abbastanza strato ed è abbastanza molto interessante. Per sicuramente, quando aggiungiamo due tannini vorremmo avere un po' di lungo perché il problema è che, a volte, il vino diventa un po' troppo troppo e troppo corto. Quindi, usiamo qualche arabinol. In questo caso, usiamo un arabinol che è L che significa levo giro con una linea molto lunga che copriera tutte le tannini e potremmo provare molto meglio. Quindi, il tema di questo vino è il tema di questo tannini è Nord America considerando che abbiamo ancora un prezzo migliore. Quindi, il prezzo migliore è completamente diverso. 4.5 sotto 5 o sotto 5 o sotto 5 dollari. Quindi, questo è il tipo. E, ciò che abbiamo fatto qui, è una combinazione tra Cab e Merlot. E, con questa combinazione, ciò che proviamo a fare qui, è provare a caratterizzare il vino con una varietà tipica di occhi, perché i vini nordamericani sono davvero caratterizzati per occhi. e, il mercato americano qui, normalmente, piace un grande franco sul basso ma molta vaniglia. In questo caso, non abbiamo aggiunto altri prodotti. Perché? Perché, normalmente, in questo tipo di vino aggiungono qualche gara. Quindi, aggiungono il gara residuo che è più alto di 6-8-9 grammi per litro. Quindi, non abbiamo aggiunto altri prodotti che possono confusione. del vino. La qualità del vino è un po' più più strutturata, senti un po' più il tipo di vino. Parlando di Cina, potrebbe essere un vino che potresti trovare in Cina. Per sicuramente senti un tannino. Ma, anche qui, è molto più facile. Perché? Perché la dolce del merlot nel cuore ti aiuta molto a coprire la quantità di tannino che abbiamo. quindi, continuiamo. Questo è un mercato nel mondo perché è il mercato scandinavico. Si deve considerare come il terzo o il quarto mercato del mondo di vino in bottiglia. In questo caso, solo usiamo un cabernet perché è il tipo di vino che piace e in cui la maggior parte del nostro cliente si tratta con il nostro tannino. In questo tipo di vino sicuramente il cabernet è il migliore di qualità che abbiamo. Qui il tannino è troppo aggressivo ma ci sono cose molto interessanti che vengono. vedete questa sensazione florale del cabernet hai una sensazione bellissima che nel vino è molto interessante ma non trovi così facilmente. Ha venuto questa sensazione florale come rose e è una caratteristica di DxO normalmente hai questa sensazione nel cognac molto vecchio quando si tratta molto vecchio concentrati nel cognac hai questa sensazione di questa sensazione florale che non è l'altra parte del tasto che è il caramello qui non c'è di zucchero quindi devi considerare che la sensazione è solo relativa al vino ok poi aggiungiamo qualche barrique perché la barrique è il principale trattamento con un po' di vanillia anche perché dobbiamo considerare che questo tipo di mercato è un mercato in cui le persone piacciono piacciono piacere 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 poi abbiamo fatto aggiungiamo qualche corpo che dà un po' di sapidità perché il vino piacciono un po' di sapidità e poi proviamo di mantenere un po' di arabino un po' di sapidità un po' di sapidità molto corta che dà la stabilità e provano di fare una buona tra i prodotti ok andiamo con il mercato il mercato chino il mercato chino è un mercato molto vecchio è un mercato in cui i clienti non sono così educati ma è un mercato un mercato quindi vogliono semplice non aggressivo soft e vogliono qualcosa che possono riconoscire quindi l'ultimo è uno dei mercati dove abbiamo in DIB4U molti più testi è uno dei mercati dove i clienti che vendono vini cercano di caratterizzare il vino per dare alcune note specifiche al vino vini andiamo con il cubo perché perché il Cabernet Sauvignon è la principale varietà vendendo in Cina è la varietà che il cino piace più quindi è molto importante avere un cubo in questo caso l'esempio è lo stesso in questo caso la prima sensazione che hai è il Ixo ancora un buon occhio come un ucchio è qualcosa che piace perché è considerato un vino che è un vino molto alto poi siamo passati con alcuni frutti perché nel mercato cinese vediamo che piace frutti ma non frutti come rosa ma come frutti che viene dalla varietà questo è molto importante perché il cliente piace per sicuramente con questa dose di tannin per sicuramente lo abbiamo è necessario un po' di gara per smuovere un po' di sensazione ripeto non avevamo nessun zucchero perché non vogliamo cambiare il profilo del vino quindi se testiamo il vino è molto interessante se vedi è abbastanza smuov e ha una cosa molto importante molti cittadini come diciamo con il Campey quindi principalmente non vogliono il primo olio ma piace l'ultimo l'ultimo quindi se ti lasciano una buona sensazione dopo il vino questo è quello che si ricordano se questo l'ultimo è è prima si le le si potrebbero in una una le 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 come i cinesi iniziano. Quindi, se hai un buon appetito, significa che, dopo aver finito di minuto il vino, questo è quello che rimane nel tuo cervello e sarà il motivo per cui comprivi questa bottola. Un altro mercato, il mercato sudamericano. Per sicuramente il mercato sudamericano, per noi per gli europei, è principalmente il Brasil, un po' di Colombia, per sicuramente non hai un po' di vino italiano, in Chile, in Argentina, quindi il tema è principalmente il mercato brasiliano. È un mercato medio e alto. Questo è un mercato che possiamo chiamarlo di Super Tuscan. Questo è il mercato, principalmente il mercato questo era il mercato di San Paolo, tutti i prodotti erano distributori per la regione di San Paolo. quindi è un vino molto complesso, con una molto alta struttura, e con già alcuni occhi da fermentazione. Senti che il vino è abbastanza grande, abbastanza importante. ciò che abbiamo fatto con il trattamento. Vogliamo avere caratteristiche francesi molto forte senza perdere il frutto del vino. quindi l'idea è la prima entrazione francese la prima entrazione ha la sensazione di Bordeaux clean Bordeaux un'acqua molto buona che si tratta di francese poi provate di dare un po' di flora perché? perché hai considerato che la maggior parte di questo vino si tratta con carne carne che fa la griglia quindi carne dove hanno un po' di salto quindi ciò che abbiamo fatto abbiamo provato di dare un po' di salto perché se il vino non è sufficiente e non hanno sapidità poi il vino con la carne va a desaparecerlo quindi vogliamo che il vino abbia qualcosa che non è così dal caratteristico di quello che si mangia normalmente e poi abbiamo provato di dare un po' di palazzo medio perché? perché questo tipo di consumatore non piace troppo con carne molto aggressiva cosa senti? è molto bene combinato per sicuramente questo è il migliore combinato che abbiamo in questo testo è un pochino un pochino più avanti è un pochino in fronte ma devi considerare che questi vini sono dal 2018 quindi e c'è anche un pochino 19 quindi un vino un pochino è molto più più però se si tratta se si tratta che è il vino del settimo in maniera a 10.30 si tratta non hai sensazione questo è un'importanza in tutto il vino che abbiamo testato non c'è una sensazione anche con una molto alta quantità di talni il vino decisivano di avere un pochino medio quindi la stessa ma caratteristica in un modo completamente diverso. Questo è molto importante e mi piace di testare il sud americano con l'italiano, solo per mantenere la differenza. Qui non vogliamo dare l'occhio come l'occhio francese, vogliamo dare solo per migliorare la qualità del vino, solo per mettere il vino su un livello diverso. Per sicuramente avete un po' di notte di cerio, molto ben fatto. Con un po' di acetyldehyde. Perché mettiamo questo buon acetyldehyde? Perché questo è qualcosa che mantiene il vino facile a drinkare. Il cliente piace, in un livello molto alto. Quindi considerate che questi due tannini sono tannini che hanno un livello più alto di un grande tannino dentro, quindi aumentano un po' di acetyldehyde. Stavamo un po' di acetyldehyde perché è un polisaccaride, quindi manteniamo il vino là. È davvero interessante. Volviamo al trattamento sud americano. Il stesso vino, solo il trattamento. Questo è molto importante per capire perché organizziamo questo test. Perché con il stesso vino, solo con un piccolo, diverso trattamento, potete avere due vini completamente diversi. e non c'è nessuna gente che può dire che sia la stessa base. Dico questo anche perché? Perché tutti questi trattamenti sono trattamenti che puoi fare in linea. Vedi la macchina che abbiamo in arrivo, qui, la dosi uniti. Tutti questi trattamenti puoi avere la stessa base di vino, quindi puoi decidere. Questo va da sud america e vai con una ricetta. Questo va da nord america e vai con una ricetta. Questo va da sud americano e vai con un'altra ricetta. Mi scusatevi per il vero 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 che puoi usare per vino, ma in fine, mentre tutti noi lavoriamo come tecniche, è molto importante capire cosa possiamo fare. Grazie molto e spero che vi piacerebbe. Grazie. 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 Grazie a tutti.